ma si si e lo so e lo so e coso non è così e lo so e lo so ma che scherzi ti pigiassi un accidente accidente un po' da te e coso ma allora si rimane così vai allora si rimane così capivo capivo ma allora facciamo una ossa risentiamoci tu mi dà un corpo di telefono io ti richiamo se mi fa una ossa tu mi mandi o tu scrivi su whatsapp tu mi mandi tu mi dici tu mi whatsappi e lo so e allora vai si va bene si è la fava dei doni accidente a te porca di quella maiana allora si rimane così come se fissavo l'altra volta alle nove ai poggio no no ai poggetto ai poggio so mi raccomando ci conto no e sono a lavorare ora fa festa a mezzogiorno se non posso fare festa tendo e sedi che fai si leccamelo leccamelo coso te lo dio io te lo dio io me l'andà poi quando ci si vede nel racconto vada tu ti rimarrà la bocca aperta che sono discorsi si si no no comunque vai si rimanco si si rimanco si ho capito ho capito vai va bene allora se ti mi dà un colpo di telefono io ti do un colpo di telefono e ci si sente e si fissa e si ha non c'è problema hai visto ci si chiederà direttamente vai si rimanco si allora si rimanco si si rimanco si vai va bene va bene vai vai allora buona ci si sente più in qua buona cerca e lascia un like alla nuova pagina toscana maremma maiala